La Fusion Dance Project nasce da tre ragazzi con l'idea appunto di portare avanti la danza e il movimento in tutte le sue forme. Siamo in piedi da quattro anni, questo è il quinto, abbiamo moltissime idee, lavoriamo nelle palestre comunali del comune di Gallarate, abbiamo parecchie sedi, tanti insegnanti, tutti pronti a portare nuovi progetti, nuove idee all'interno della città e per i nostri ragazzi per il loro miglioramento. In questo momento stiamo portando avanti un nuovo progetto che si chiama Improve Yourself che porterà otto appuntamenti su otto mesi, porterà degli insegnanti di livello internazionale, qui proprio a Gallarate, sette insegnanti diversi, uno al mese, un appuntamento al mese per sapere di tutto e di più contattate il nostro sito, contattate i nostri numeri di telefono, cercate su Facebook, su tutte le piattaforme social e assolutamente siamo tutti disponibili per darvi tutte le informazioni che servono per tutto questo. Questo è un evento unico che assolutamente non è da perdere, gli insegnanti sono veramente qualificati, tutto il nostro staff a disposizione, abbiamo la settimana di prova gratuita da 19 al 24, quindi settimana prossima, quindi trovateci in tutte le nostre sedi, Maino, Ponti, Centro e Falcone, quindi niente, non c'è mai altro che provare i corsi.